we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi patch notes 9.0 la prima dell'update di questa season numero 9 andiamo subito nel dettaglio ragazzi ovviamente la prima cosa il nuovo pass battaglia sempre a 950 vbucks per chi volesse la versione base per ovviamente sbloccare tutte e 100 le ricompense come in ogni season ma un'altra novità la state vedendo anche qua sopra di me è il nuovo sistema di movimento onda d'urto in poche parole ragazzi un nuovo metodo per muoversi rapidamente nella mappa ed è molto probabile che non ci siano più i geyser quindi passandoci in mezzo otterremo una spinta che ci permetterà di andare nettamente più veloci nuove city ragazzi nuovi punti di interesse emersi dalla devastazione creata dal vulcano c'è neo inclinato che penso sia proprio la city che state vedendo alle mie spalle e mega mall che deve essere praticamente il nuovo corso commercio ma un sacco di modifiche anche per quello che riguarda armi e oggetti hanno aggiunto il fucile pesante da combattimento un'arma semi automatica che contiene 10 pallottole e spara 9 pallettoni per colpo che fanno rispettivamente in base alla rarità il danno di 73, 77 e 81 incredibile ragazzi 1,70 è il moltiplicatore per il danno alla testa e ricarica due colpi alla volta messo nelle varianti scusatemi 2 epico e leggendaria finalmente diminuita la possibilità di trovare la drum gun quindi la thompson dal 16,73 per cento al 7,15 per cento ridotta anche la disponibilità di ritrovamento dell'arco esplosivo dall'1,2 per cento allo 0,7 hanno tolto le granate ragazzi ci hanno inserito le granate quindi tornano le granate normali dal magazzino messe invece le granate appiccicose quindi addio alle Klinger addio ai tesori sepolti peccato quindi addio anche alla mappa fucile a pompa in magazzino ragazzi assurdo assurdo trappole ad ardo velenoso in magazzino quindi anche quelle non le rivedremo più revolver con mirino in magazzino fucile d'assalto silenziato in magazzino fucile termico in magazzino palloncini in magazzino ragazzi hanno tolto un sacco di cose per quello che riguarda le onde d'urto invece la descrizione dice che questi tunnel del vento trasportano passivamente i giocatori lungo la corrente ci si può muovere più velocemente e cambiare direzione cercando di spostarsi attraverso questi cerchi attenzione perché quando si esce dal tubo quindi dalla colonna di aria il giocatore viene lanciato in base alla velocità di movimento e all'angolo di uscita ma una grandissima novità ragazzi sono i Fortbyte i Fortbyte sono 100 chip collezionabili disponibili solo per i possessori del pass battaglia man mano che verranno raccolti i Fortbyte si decifrerà un'immagine misteriosa raccogliamoli tutti per sbloccare delle ricompense e scoprire i segreti della season 9 il primo giorno della season ragazzi ne avremo 18 da trovare sparsi per tutta la mappa e almeno un nuovo Fortbyte verrà sbloccato ogni giorno quindi ragazzi ce ne sono davvero tantissimi bisogna sempre tenere controllata la scheda sfide nella dashboard nella lobby per sapere un po' i nostri progressi hanno fatto anche delle nuove modifiche delle nuove rotazioni per le LTM adesso rientrerà Terzetto che è praticamente la battaglia reale classica però con squadre da tre persone Oro Massiccio che conosciamo benissimo e Colpo Secco la modalità con la gravità ridotta i giocatori invece già qualificati alle World Cup verranno contrassegnati con un distintivo World Cup per la classifica dell'evento e tra l'altro ci sono delle nuove funzionalità per vedere meglio le classifiche di tutti gli eventi hanno migliorato invece il framerate per quanto riguarda i giocatori da Nintendo Switch soprattutto quando ci sono molti giocatori sullo schermo e sistemati un bel po' di bug che davano dei problemi e che quindi rendevano il gioco molto più brutto come vi avevo già anticipato tantissime migliorie per i file audio probabilmente anche nuovi suoni e da oggi ragazzi facendo da spettatore da spettatore a un nostro compagno di a un nostro amico a un nostro giocatore potremmo ragazzi seguire automaticamente tutta la sua partita quindi arriva per la prima volta il prototipo della modalità spettatore modifiche per anche quello che riguarda il gameplay su mobile quindi si è messo il fuoco automatico che si può attivare quando si guida un veicolo hanno aumentato un'opzione per aumentare le righe totali del feed e finalmente è possibile accedere alla formazione squadra anche da mobile moltissimi bug corretti che davano problemi ve ne dico alcuni vi invito ad andare a vedere la patch notes completa ovviamente sul sito ufficiale di Epic Games hanno sistemato il problema delle armi semi-automatiche che adesso sparano molto meglio l'indicatore della traiettoria della dinamite adesso è stato migliorato e sistemato ragazzi la ringhiera delle scale a parco pacifico finalmente non spunta più attraverso la porta e il testo input bloccato non appare più quando si apre l'inventario ovviamente un sacco di modifiche e di aggiornamenti anche per la modalità creativa ci sono nuove strutture da utilizzare le nuove isole ovviamente e un sacco di migliorie con nuove armi ovviamente il fucile semi-automatico portato anche in creativa con anche un sacco di migliorie per gli strumenti che ci sono tipo il telefono ovviamente ragazzi vi invito sempre ad andare a vedere tutto in modo da essere aggiornati perché sono davvero una sfilza infinita chiudiamo con il salva al mondo arrivano i war games su save the world ragazzi partecipa a nuove e uniche simulazioni delle missioni dello scudo anti tempesta arriva un nuovo come si dice un nuovo eroe che si chiama Locke da quanto mi risulta che è una tizia di colore con la maschera di un dinosauro e attenzione arriva anche Geridan che a quanto mi risulta sembra il cavaliere nero ragazzi tanta tanta roba che diventa in realtà un costruttore insomma ragazzi nuove missioni nuove cose grandi novità per questa season 9 che promette di regalarci davvero un sacco di emozioni io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale e passate i live che stiamo vivendo assieme la season 9 ciao